Centri commerciali chiusi nel fine settimana e con loro anche la maggior parte di negozi e attività situate al loro interno. Sono le disposizioni emanate dall'ultimo DPCM che continuano a far discutere i titolari di tanti esercizi commerciali. Particolare è la situazione registrata soprattutto a Vallefoglia, dove la classificazione di centro commerciale per alcune strutture obbliga i titolari di diverse attività economiche a tenere abbassata la sala cinesca nel weekend. Nonostante i locali in loro possesso non si trovino all'interno di gallerie o strutture al chiuso e mostrino ingressi indipendenti. Lo scorso fine settimana infatti dei sei parchi centri commerciali situati a Vallefoglia, quattro sono rimasti chiusi, ad eccezione dei negozi di prima necessità, mentre altri due con caratteristiche identiche hanno potuto lavorare regolarmente. È stato proprio un fulmine a Celsereno perché siamo risultati per un cavillo burocratico un centro commerciale a tutti gli effetti, dove non siamo un centro commerciale. Io ho sempre immaginato i centri commerciali nelle gallerie all'interno. Invece con le nostre licenze risulta centro commerciale, anche se abbiamo un nostro ingresso, non abbiamo niente in comune. Il mio bar ha la sua entrata e la sua uscita, quindi a tutti gli effetti come un qualsiasi altro bar. Da lunedì al venerdì, dove siamo costretti a chiudere le 18, proprio quando il 90% degli operai esce dal lavoro, che potrebbe venire da noi a far l'aperitivo, a noi ci trocca chiudere. Quindi tutta la settimana cerchiamo di sopravvivere. Gli unici due giorni che possiamo lavorare sono il sabato e la domenica. Ci siamo fatto chiudere per questo cavillo. Immediato l'interessamento dei consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri, insieme al primo cittadino di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, e al vicepresidente della giunta regionale, Mirko Carloni, per fare chiarezza sulla questione. Devo dire che ci siamo attivati immediatamente appena ci hanno segnalato questo disagio, che in realtà è un disagio vero e concreto. Nel senso che il DPCM prevede la chiusura dei centri commerciali, ma quando si parla di un centro commerciale siamo abituati a considerare quegli spazi chiusi, cioè dove c'è una galleria e i vari negozi affacciano all'interno di questa galleria. In molte situazioni, soprattutto nella città di Vallefoglia, invece ci sono dei centri commerciali così definiti dove le varie attività economiche hanno un ingresso indipendente, cioè affacciano direttamente o in una via pubblica o in un parcheggio e quindi hanno un ingresso completamente indipendente come qualsiasi tipo di attività, ad esempio, che sta all'interno di un centro storico. Ed è per questo che abbiamo fatto la richiesta al Ministero attraverso la Regione e voglio ringraziare ovviamente insieme a me anche la consigliera Michela Vitri, il sindaco Chielli che si è attivati immediatamente e insieme all'assessore Cardoni abbiamo inviato questa lettera direttamente al Ministero. Noi ci auguriamo che ci sia una risposta in tempi rapidi per poter capire, poter dare questa informazione e per poter dire che i centri commerciali che in realtà si sviluppano all'aperto non vengono considerati come quelli al chiuso ma come qualsiasi attività.